Un saluto a tutti i nostri teleascoltatori e agli appassionati di sci e di montagna. Appuntamento settimanale con Meteo Neve in collaborazione con Monterosa Schi, Pila e Cervigna S.P.A. Siamo redici da un bellissimo weekend trascorso sulla neve, due veramente belle giornate, però vediamo com'è la situazione attuale per questo weekend, il primo weekend di febbraio. Abbiamo un weekend che sarà caratterizzato da un passaggio di un fronte nuvoloso da nord-ovest e si creerà una doppia depressione fra il Martirreno e il Mar Adriatico, che sarà seguita da un'aria polare marittima. Le temperature ritorneranno su valori invernali, un po' di neve prevista per sabato fino a Fondovalle e invece per domenica soleggiato o tempo variabile. Ma vediamo com'è la situazione della neve in Val d'Aias, ricordiamo è stato un gennaio particolarmente siccitoso, con poche precipitazioni, quindi tra virgolette la neve è un po' vecchia, però le piste sono in ottime condizioni grazie anche all'innevamento artificiale. Allora, a D'Antagnò abbiamo 20,50, a Brusson, a Palasinas abbiamo 61 metro, a Champolloc 30, 110 alla Bettaforca. Qui per sabato le temperature oscilleranno tra 1 grado e meno 9 gradi. A Gressonei e Saint-Jean, nella Valle dell'Is, abbiamo 35, 1 metro in cima alla West Matten. A Gressonei e la Tridite abbiamo 50, 1 metro e 60 a Punta Iolanda. Qui le temperature per sabato oscilleranno tra 1 grado e meno 9. Ora vediamo in Val Turnansia, a Bruei e Cervigna, qui la neve è un po' più abbondante, abbiamo 60 centimetri in paese all'arrivo delle piste e 2,05 metri a Platò Rosà. Le temperature per sabato saranno da meno 2 a meno 14 gradi. Per Pila la situazione è di 50 centimetri nella parte bassa, un metro nella parte alta. Come abbiamo detto, durante la giornata su queste località sciistiche potremo avere delle nevicate alternate a solo nuvolosità e anche a qualche raggio di sole. Ma ora vediamo invece come sarà la situazione per domenica, dove in Val d'Aias avremo temperature che varieranno da meno 2 gradi a meno 9 gradi con sempre un vento da nord-nord-ovest. Forse un vento un pochettino forte, non da dare fastidio ma però da creare problemi, ma domenica sarà una giornata un po' ventosa. In Val d'Ellis le temperature sia a Gressonei e a St. Jean che la Tridite varieranno tra i meno 1 e i meno 11. Come vedete le temperature, soprattutto sulle minime, sono in calo per domenica. A Brei e Cervigna avremo temperature che varieranno per domenica da meno 8 a meno 13 gradi. A Pila avremo un tempo variabile nuvoloso su Cervigna, mentre invece a Pila avremo temperature da meno 4 a meno 9 e un tempo abbastanza soleggiato. Bene, per questo weekend è tutto. Appuntamento da Meteoneve e alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie.